Buongiorno brutto pezzo di camperista e benvenuto sul mio canale Vivere in Camper ma chi te lo fa fa? Statene a casa! Oggi voglio portarti a vedere la casa di Thomas e Andrea, due nostri amici dall'Austria e dalla Germania. Sto facendo io il video tour di questo mezzo proprio perché loro non parlano in italiano. È un mezzo straordinario, non ho mai fatto un tour di questi mezzi, volevo proprio buttarmici dentro a pieno. È un mezzo che soprattutto in Germania e Svizzera è molto utilizzato, ovvero il box camper, la cellula messa sopra ad un pick up. Ti voglio far vedere tutto quello che è il sistema, molto semplice tra l'altro di come viene costruito questa tipologia di mezzi. Partiamo però da il mezzo, è un Ford Ranger, è una specie di mid class, non è uno dei Ranger più costosi, non è neanche quello più economico. Ha una cilindrata di 2.2 diesel con 160 cavalli. Chiaramente è un mezzo 4x4, l'unico problema è che comunque con la cellula non può realmente essere un mezzo off-road. Può andare su degli sterati eccetera eccetera ma essendo la cellula pesante 700 kg e il telaio magari non è così resistente, non si possono fare cose come magari si può fare con un Daily 4x4, con un Was o con un mezzo del genere. O con magari Morkenstein, il nostro amato 4x4. Però è una buona soluzione. Ti sparo subito il prezzo. Costo totale di questa camperizzazione 50.000 euro. Puliti puliti. Quali sono i costi? Più o meno 20.000 euro per la macchina usata e 30.000 euro per la cellula. Loro hanno avuto fortuna andando alle varie fiere in Germania come a Dusseldorf o a Stuttgart, hanno trovato questa cellula che era in vendita, sai una di quelle cellule che viene presentata durante le fiere, quindi praticamente nuova. Diciamo che nuova costa sui 10-12.000 euro in più. Le aziende che costruiscono queste cellule o almeno questa cellula non le fanno realmente su misura, hanno già dei moduli per diversi mezzi pick up. Quello che fanno ci sono tre possibilità ad esempio di colorazioni interne per quanto riguarda i colori della D-Net piuttosto che della parte di legname e chiaramente si può chiedere di aggiungere una presa USB piuttosto che varie altre opzioni. Chiaramente tutto è opzionabile in quella che è la parte di batterie. Ad esempio loro hanno due batterie AGM da 180 amp, ma potrebbero chiaramente chiedere di mettere una batteria a litio piuttosto che nell'inverterio. Insomma queste sono le cose che in qualche maniera si possono richiedere. La camperizzazione non potrà essere, almeno da questa ditta che ha costruito, non potrà essere così personalizzata magari. La cosa interessante che mi ha detto Thomas è che questi mezzi comunque tengono un buon valore, nel senso anche dopo magari un paio di anni di utilizzo, comunque il loro costo rimane abbastanza alto e possono essere venduti separatamente. Quindi una parte può essere la cellula, una parte la macchina 4x4, il pick up oppure può essere venduto tutti insieme. Come ti ho detto 4x4, inseribile anche durante la marcia fino a 80 all'ora, ha il classico due ruote motrici, il quattro ruote motrici e anche il 2L che non ho capito molto bene, ma praticamente la prima e la seconda sono delle marce super ridotte per fare magari delle salite abbastanza importanti. Quindi questo è un mezzo molto interessante. Per utilizzarlo, per fare off-road, chiaramente bisogna togliere la cellula e in quel momento invece si può veramente andarsi a sbizzarrire un po' per i vari sterrati in giro. Non è una cosa che richiede molto tempo, non te la faccio vedere adesso perché richiede molto meno tempo a sganciare la cellula che a rimetterla, però ti faccio vedere il suo funzionamento. Adesso direi che è abbastanza questa chiacchierata sul mezzo. Ti ho detto un Ford Ranger Diesel 2.2, 160 cavalli. Andiamo a vedere dentro com'è fatta la cellula. Quindi partiamo dalla parte più importante, la cellula fatta dall'azienda tedesca dell'Alto della Baviera, Tischer, che tra l'altro lavora da 40 anni, 40-45 anni nel settore, addirittura costruiva delle cellule sui T3 d'oca, sai quelli cassonati. Quindi questa è la nuova tipologia, abbiamo una parte posteriore con tutta la zona living, quindi cucina, dinette, eccetera, eccetera, e la zona della mansarda, quindi la parte dove si va a dormire. Com'è possibile realizzare questo sistema? Semplicemente l'azienda prende per diversi giorni il mezzo, quindi il pick-up, in modo da sistemare nella parte giusta i quattro sostegni che vengono appunto agganciati tramite bulloni al pick-up. E come si può tirare via la cellula? È possibile farlo da soli? Assolutamente sì, i ragazzi l'hanno già fatto diverse volte, ci sono quattro gambe che sostengono la cellula quando la si vuole sganciare, due nella parte anteriore, due nella parte posteriore, semplicemente usando una pistola come questa, basta semplicemente sbullonare questa parte qua, chiaramente non si può fare sulla sabbia, si deve fare su una superficie piana. Una volta fissate le gambe tutte in bolla, il furgone è alzato più o meno di una decina di centimetri rispetto al pick-up, il pick-up riesce a uscire tranquillamente, quindi è un sistema molto semplice. Delle volte l'hanno usato proprio perché potevano lasciare la cellula da qualche parte e magari andare a fare un percorso 4x4. Oppure se ti interessa utilizzare la macchina per andare a fare la spesa senza portarti dietro 700 kg di roba, questo è un sistema molto semplice da utilizzare, non c'è bisogno, come ho visto in qualche video, il garage con gli argani e le cose. Vedi che ti faccio vedere? Praticamente così se guardi sotto la gamba, piano piano scende finché arriva proprio fino alla parte piana. Abbiamo detto i ragazzi che togliere la cellula è abbastanza semplice, rimetterla è un pochino più complicato, soprattutto perché devi fare marci indietro in maniera molto precisa in modo che tutto vada nella posizione giusta. Comunque lasciamo qua giù il trapanone. Cosa abbiamo qua? Abbiamo due bombole del gas, quindi questa è sia per la parte di riscaldamento, sia anche per la cucina. Hanno deciso di non avere un duo control, ma un mono control in modo da sapere e avere il tempo necessario, sapendo quando finisce una delle bombole, avere chiaramente il tempo per trovare dove caricarla, perché anche loro sono in viaggio tra Cipro, Turchia, Iran, quindi non è sempre facile trovare il posto. Volendo si può mettere un sensore all'interno, quindi con un lettore, avendo il duo control, in modo che ti dice comunque entrambe le bombole quant'è la quantità di gas. Qui siamo nella parte posteriore del furgone, c'è l'entrata principale della cellula, oppure puoi anche entrare dal finestrino, dipendente da te, un bel gradino, per gli anziani hanno anche la versione con due gradini, perché la porta nella parte posteriore? Semplicemente i ragazzi hanno deciso di averla nella parte posteriore, quando magari puoi trovare la cellule nella parte laterale, semplicemente per poter magari introdurre degli oggetti più lunghi, come ad esempio due biciclette, quando invece la porta è laterale, fa un po' più di fatica. In questo viaggio il ragazzo ha deciso di non portare le loro due biciclette, che solitamente erano appese qua, con un sistema con due pneumatici, quindi quando la porta era chiusa, e quando si viaggiava, le biciclette potevano stare tranquillamente su, quando si arrivava al parcheggio, bastava spingerle, le biciclette uscivano da quello che è il tetto del box, e quindi si poteva utilizzare la porta. Mi hanno detto che in questo viaggio hanno voluto essere un po' più minimalisti, e soprattutto hanno visto che molte volte, con delle giornate magari abbastanza ventose, le due biciclette in alto, che superano quella che è la dimensione del box, facevano un po' tremolare tutto il mezzo. Quindi per questo giro hanno deciso niente biciclette, non c'è problema. Chiaramente se trovi una cellula, quindi un box con l'apertura laterale, tutto questo spazio potrebbe essere tranquillamente utilizzato per mettere le biciclette, se ti va di fare una bella pedalata. Sull'altro lato invece abbiamo parte di quella che è la classica diciamo camperizzazione, quindi la zona delle acque nere, qui con anche il filtro ai carboniattivi, per evitare la puzza di cacchetta all'interno dell'abitacolo, una presa per la doccia, lo scarico delle acque grigie, la truma combi, l'elettricità, quindi la tacca la 220, e il carico dell'acqua esternamente, hanno una tannica da 90 litri di acque chiare, e una tannica da 30 litri per le acque grigie. Quindi questo è quello che più o meno entra in quella che è la classica camperizzazione, la stessa editta fa due modelli diversi, questo è il modello un po' più base, mentre il secondo modello, che chiaramente costa molto di più rispetto a questo, ha una parte mansardata che forse è un po' più aerodinamica rispetto a questa, perché comunque più o meno sono quelli che sono i consumi. Thomas ha parlato appunto dei consumi, normalmente consuma sui 7-8 litri ogni 100 km senza la cellula, senza il box, invece con il box, quindi mettendo su 700 kg di camper, si arriva sui 10 litri e mezzo per 100 km, che comunque sono dei costi abbastanza ragionevoli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! All'interno della casetta di Thomas e Andrea. Come vedi, lo spazio è, devo dire, molto vivibile, la cosa interessante di avere la porta sul retro è che possono avere comunque un po' più di spazio, come ad esempio questo guardaroba, e come ti ho detto, appunto, avere la possibilità di mettere oggetti più lunghi, come ad esempio, che ne so, un sup, una tavola da surf, delle biciclette. sulla parte destra abbiamo appunto una parte di guardaroba, molto bello, con la parte dove si possono appendere magari, sai, lo smoking, se uno deve andare in giro a fare delle serate, comunque una parte molto grande di parte di armadio, abbiamo la zona cucina classica, con una parte in alto dove mettono sale, pasta asciutta, caffè, insomma, tutti quelli che sono le cose, la dispensa un po' per la cucina, una parte con le spezie, presa 220, presa 12 con l'accendisigari, questo invece è un po' il controllo, come abbiamo noi, dove indica lo stato della batteria del motore, lo stato delle due batterie AGM che hanno, la quantità di acqua che c'è nella tannica delle acque chiare e successivamente anche accendere la pompa dell'acqua o accendere ad esempio le luci esterne, quelle sul tendalino se ci sono, quindi più o meno è quella che è una classica camperizzazione. Cucina Dometic, non sono un grande fan di queste cucine, semplicemente con tre fuochi, ma sono un po' troppo vicini, quindi non si riescono a usare realmente tutti i tre fuochi insieme se non con delle padelle veramente molto piccole, avrei preferito un due fuochi, però è una bella cucina abbastanza grande con chiaramente il lavandino, nella parte sotto abbiamo il classico porta posate, successivamente qua hanno vari attrezzi un po' più lunghi per la cucina, delle maniglie, delle posate per l'insalata, più la moca, la caffettiera, mentre nella parte in basso questo è lo stivaggio classico per piatti, padelle, pentole, eccetera, eccetera. Nella parte laterale chiaramente abbiamo quella che è la zona di lavoro, di taglio, dove si possono preparare le vivande per poi metterle a punto e cucinare qualcosa di buono. Dall'altro lato della casa di Thomas Andrea abbiamo un bel frigorifero anche abbastanza grosso, penso che sia un 70-80 litri, veramente abbastanza capiente, loro non lo usano tantissimo anche con la zona frigo, però ha un frigorifero di tutto rispetto, insomma bello grande per appunto riuscire a viaggiare. Questo mezzo è realmente fatto per 2-3 persone che dopo ti farò vedere, quindi c'è la zona della mansarda che è un bel letto molto grande e c'è anche la possibilità nella parte di Linette di fare un terzo letto. Nella parte sotto invece abbiamo la Truma Combi che serve per il riscaldamento e anche l'acqua calda, quindi una decina di minuti e si può avere l'acqua calda per la doccia e qui anche un'altra piccola parte di stivaggio. Nella parte sotto invece abbiamo un piccolo scompartimento, questo è molto interessante, c'è in dotazione su tanti camper, è il segnalatore che a 3 gradi centigradi di temperatura apre le acque chiare e fa uscire tutta l'acqua dalla tannica in modo da evitare il congelamento. Adesso andiamo subito nella parte posteriore dove ti faccio vedere invece il bagno. Nella parte posteriore sinistra invece c'è la porta del bagno che ha un bel bagno di tutto rispetto, bagno e doccia, un sistema Tethford con la classica cassetta delle acque nere, c'è la parte della doccia appunto, ci sono due possibilità. Il lavandino che trovo molto interessante come tipologia che può essere semplicemente fatto scendere in questa maniera e quindi si utilizza il lavandino, è abbastanza molto semplice come sistema. Nella parte superiore hanno una piccola parte di stivaggio con asciugamani piuttosto che spazzolino, dentifricio anche qua. Un lucernario, una parte sopra perché non si sa mai se ti viene la cacca puzzonente, è sempre meglio. Quindi la cassetta delle nere l'abbiamo vista esternamente, è quella classica che va più o meno su tutti i camper. Quindi un bagno, devo dire, abbastanza spazioso e anche per la doccia fatto tutto con materiali resistenti all'acqua quindi una buona soluzione per una buona doccia in camper. Nella parte centrale diciamo del box c'è la dinette che è molto comoda, bella, spaziosa per quattro persone diciamo strette e per due persone molto larghe. La parte centrale con un tavolino che si può scegliere tra l'altro in due diverse opzioni, c'è quella più o meno fissa quindi con una semplice gamba del tavolo che non è regolabile e c'è invece quella più costosa che è il classico tavolo nautico con il sistema che può essere alzato e abbassato. Thomas ha scelto questo semplicemente perché su questo tavolo può arrampicarsi e uscire dall'oblò superiore quindi teoricamente danno la possibilità di poter stare sul tetto magari a guardare un bel paesaggio fino a 100 kg quindi io non ci starei lì nel senso forse solo per pochi minuti. La parte interessante, questo mezzo come ti ho detto è per quattro persone, diciamo due adulti e due bambini perché questo tavolo viene smontata alla gamba quindi la gamba viene messa da un lato viene messa la parte rigida in mezzo alla dinette e chiaramente i due schienali vengono utilizzati come materasso ed è un bel letto da 1,20 m quindi due bambini teoricamente ci stanno in questa tipologia mentre come vedi alle mie spalle il letto matrimoniale è veramente molto grande. Sotto la dinette c'è appunto la parte di pick up che può diventare comunque un grosso stivaggio. Mi ha detto Thomas che è sempre meglio siccome c'è comunque un po' di spazio tra il pick up e la cellula quindi può essere che magari entri dell'acqua con una pioggia molto forte laterale o magari una volta mi ha detto è caduto del cibo e avevano le formiche quindi magari poter stivare delle cose magari in delle sacche stagne o magari se uno ha che ne so la vela per fare paragliding piuttosto che quella per fare kitesurf insomma quello può essere il posto per materiale sportivo. è molto semplice su tutti i due lati basta alzare la parte di materasso e qui c'è tutto lo spazio che praticamente va sotto al pick up. L'ultima parte chiaramente di questo box è la parte del letto che è un bel letto matrimoniale devo dire è molto comodo non l'ho usato ma mi ha detto Andrea e Thomas che è veramente molto comodo questa parte qua in alto è dedicata al guardaroba di Andrea mentre dall'altra parte c'è il guardaroba di Thomas c'è un buon sistema come vedi questa grata in alto che dà tutta quella che è la buona ventilazione per non avere poi magari vestiti con dopo le giornate magari umide di pioggia che sanno un po' di muffa quindi è veramente una bella struttura. L'ultima parte sono dei piccoli armadietti aggiuntivi con la luce, le varie prese USB magari per mettere i libri che si possono mettere da entrambe le parti oppure si può richiedere senza di quelle. Diciamo che in questa versione sono state montate perché è stato il box che è stato mostrato la fiera di Dusseldorf e anche altre fiere in Germania. Quindi questa è una soluzione molto interessante che fino ad oggi non aveva ancora valutato come tipologia di camperizzazione. Lo spazio è molto interessante per chi ha la voglia magari di andare a fare dei percorsi 4x4 come ti ho fatto vedere il sistema per bloccare la cellula e lasciarla è molto semplice ci si piega 5 minuti a metterla giù forse anche una quindicina di minuti per rimetterla indietro bisogna essere molto bravi a fare retromarcia e a trovare il giusto punto. Quindi questo è più o meno quello che è tutto l'asset rimane ancora dello spazio che ho visto i ragazzi utilizzano che sono i sedili posteriori del pick up non è un grossissimo spazio è appunto lo spazio tra i sedili anteriori e poi la parte chiusa del pick up dove hanno diversi box con materiale che non usano così spesso tante volte mi hanno detto che hanno provato con il pick up magari su dei percorsi dove non potevano fare troppo off road quindi hanno messo la tenda, il sacchia pelo dentro al pick up hanno sganciato la cellula e sono andate a farsi invece magari un weekend su per le montagne quindi questo è tutto più o meno per questo video grazie mille se ti è piaciuto il video metti un bel pollicione in su se invece non ti è piaciuto come ben sai fai finta che non mi conosci ciao bello ciao 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 ciao